Ragazzi sono tornato in questo nuovo video di Emosi XIgia E allora vediamo che operatore scegliamo Io non lo so Vediamo Vabbè facciamo Blackbeard Allora così No quello è Allora vediamo Vediamo Recute Glazio capitale Ok Abbiamo diciamo Non ho preso la recuta Non è che è veloce però non è che è forte Però vabbè Almeno Allora vediamo dove stanno Trovate il contenitore di biorischio È già arrivato È già arrivato È già arrivato È già arrivato Allora vedremo andarlo È già arrivato Ok già Già l'hanno trovato Ottimo lavoro Contenitore di biorischio localizzato No 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 Non ho ottenuto Non ho anche il camere Inserimento tra 10 secondi Raggiungete il contenitore di biorischio e difendetelo Ancora 5 secondi Raggiungete il contenitore di biorischio e difendetelo Va Capito cosa sta fermo Allora Allora Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è vediamo ho sentito sparare ho sentito sparare perché per forza non ci credo mi sono cagato sotto madonna mia un attimo raga che paura ci credo che paura madonna mia un attimo 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 Oh Meglio prendere il tronco Togli out Nuovo caricatore Vai Ciao 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 Non è pronto Già te li ucciscono Vai Nuovo caricatore Guarda te li ucciscono Vai Vai Sono rimasto La squadra d'attacco ha eliminato i difensori Mamma mia Allora Quando? Non so che prendere Oh Il fucilio Non so se ho cambiato Ah ok si Ho cambiato Che spavento Dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio Difendete la stanza Dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio Rinforzo il muro Il muro è rinforzato C'è un po' Questo è duro Ma Rimangono dieci secondi Il drone nemico ha individuato il contenitore di biorischio Il drone nemico ha individuato il contenitore di biorischio Forse? Forse? Siamo a cinque secondi Uno preso un plazzo Secondo me uno preso un plazzo Il drone nemico ha individuato il contenitore di biorischio Non so 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 Tra i vetri Non so Allora Saliamo Saliamo Sì Non so Non so Non so Non so Non so D'ho No D'ho C'è anche Cosa? Non ci stiamo salendo No! Qua si viene Mi aiutino Ma, meglio controllare Uno, due Finora Buongiorno signore Oh, mi deve permettere a salire Oh, no, no No, non salire Cacchio Cacchio, sapevo Cacchio, 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 cacchio No, non salire No, non salire Il contenitore Nooo Lo sapiamo che C'è la grazia Lo sapiamo Vabbè 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 Per quanto Per quanto non l'uccidivo Ma gli ho fatto quasi un caricatore intero Non è morto Non lo stavo difendendo Lassuna Non è morto Dovete trovare il contenitore di biorischio No Ottimo lavoro Ottimo lavoro Contenitore di biorischio localizzato Cacchio Gesù Ma Cacchio No Cacchio Bravo Bravo E non ti arrabbiare Cacchio Cacchio Inserimento tra cinque secondi Appena si Appena si intirato Cacchio Contenitore di biorischio individuato Raggiungetelo A me c'è qualcuno Forse C'è qualcuno Qualcuno Cacchio Droni trotta No Pfff Attiva un drone Vai Oh mio Dio. Eccate questo. Vai. Pronta a detonare. Non è attivato. Eccolo. Che cuore. Vai. Difensori eliminati. L'attacco riuscita. Vediamolo. Prendiamo. 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 Cioè prendo. Va. Adesso almeno ho messo lo scudo. Forse ho messo lo scudo. Ma. Non lo so. Ok. 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 Le granate ormai non sono più un problema. La DS attivo di posizione. Chiaro solo la DS. E' tutti sopra. E' tutti sopra. Non tutti sopra. Sto sotto dove sto io. Però non a difendere qua. Sto dall'altro lato. Non ce l'ho detto io. Non ce l'ho detto. 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 Ti prego, ti prego, ti prego. Ti prego. Ti prego. Nooo. Vabbè io. Noi passi qua pure. Forse dopo. Vabbè. Chi c'è qua? Nooo. Proteggete il contenitore di biorischio. Proteggete il contenitore di biorischio. Proteggete il contenitore. È fichurato. Non ce l'ho vedere. Sono incontro miei diventi che liνetare i compagni due noti. Non矛ca nei bordi. Non ci sarebbeげ richiesto. Le vi sono cominciate… come io se io sei uccisioni prima cavera ah no perché il barri che cazzo ho capito non voglio morire e vai e vai non so che ragazzi questo video sono uscita qua e ci vediamo alla prossima